Ed ho scelto oramai la vita che farò Procuratemi voi, se repliche in città è un successo farò Ce ne sono tanti di premi in giro dell'Italia, ma questo è un premio speciale Assolutamente Tutti gli uomini e le donne del teatro votano su quelle terne per scegliere il vincitore Insomma, il premio più prestigioso è l'Oscar del teatro Per l'attore o attrice emergente abbiamo Valentina Capone per Sole Michele De Girolamo per Masked, Legami di Sangue Giulio Forges d'Avanzati per il laureato Chi vince? Allora Valentina Capone Ciao, complimenti Valentina Fatti da nuovo Bellissimi Spagni, con spagni I premi Se non le dar premi È rimasto già A lei Grazie Grazie ragazzi Non Vabbè No, questo non lo posso dare No, questo non No, mi hanno dato la regola No, mi hanno trovato Ok, non mi offendo No, divido con i miei compagni di lavoro Che non nomino per brevità Ed è di come mi piacerebbe dedicare questo premio al popolo Degli attori di tutta l'età e di tutti i talenti che non hanno la mia e la nostra fortuna Cioè quella di riuscire a lavorare con continuità Grazie Grazie anche della Della Vale, allora una parolina velocissima Velocissima Veloce, veloce, veloce Sono Sono emozionatissima Mi ringrazio Mi ringrazio a tutti gli amici che credono nel mio lavoro E dedico questo premio a mio padre e a Leo De Berardinis che manca da un anno e ti ricordo a me Grazie Grazie Grazie